30 proposte per il rilancio del commercio e del turismo in città. La Confcommercio di Pescara ha presentato questa mattina un articolato documento in 30 punti per far ripartire l'economia cittadina dopo due anni di pandemia che hanno portato anche alla chiusura di numerose attività commerciali. Importante secondo Confcommercio è la collaborazione fra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria. La nostra è un'organizzazione che rappresenta tutte le imprese del terziario e non solo del terziario, della filiera turistica nonché quella dei pubblici esercizi. La città di Pescara è una città molto importante però adesso ha bisogno di suggerimenti e noi siamo l'organizzazione in grado di poter dare suggerimenti utili, cioè quello di rivalorizzare tutto il tessuto, una pianificazione per quanto riguarda la linea di marketing. Il piano marketing non ci si deve presentare, non si deve concordare e lo devono concordare con la stessa categoria. La Confcommercio è un partner ufficiale perché all'interno ha dei dirigenti in grado di saper dialogare su un piano marketing. Fra le priorità la creazione di uno IAT, ufficio di informazione turistico e di una tourist card che permetta a chi arriva in città di poter visitare musei e monumenti. I card di soldi per le proposte sono per esempio la card dove tu puoi andare, girare la città, viene data nei punti dove arrivano i turisti, la stazione, l'aeroporto, anche gli alberghi, gli stabilimenti, i bani e i ristoranti. Una card che consente al turista, a chi viene a Pescara di poter andare nei negozi e visitare anche i musei. Cioè a volte ci sono persone che si spostano al Museo Cascella alla Casa di D'Annunzio e devono fare due ticket invece con una card, come si fanno in tutte le città dove hanno un rapporto storico e culturale, la vista dei musei con una sola card gira tutti i musei. Grazie. Grazie.